Continua la nostra rubrica la scoperta dei capitani coraggiosi, il capitano coraggioso di oggi voi già lo conoscete bene perché lo abbiamo intervistato in diverse occasioni è Salvatore Cagliazzo, ma stasera Salvatore non è in veste di bravo macellaio come tutti lo conosciamo, è in veste di imprenditore, Salvatore da poco ha aperto un ristorante bellissimo a Scauri in via Montedoro, dico bene? DC Braceria ed Eventi che poi prende di fatto il nome dalla sua prima realtà, quella che gli ha dato la possibilità di fare questo grande salto di qualità, dico bene? Domizia Carni, Salvatore come nasce l'idea di aprire questa bellissima realtà? Matilde questo è un posto che io ci venivo a mangiare spesso i proprietari hanno degli amici e sinceramente mi ci sono innamorato tutte le volte che venivo veniamo qua io e Emanuele, ci siamo innamorati di questo posto, scherzando e ritendo mi hanno fatto la proposta, è stata una trattativa lunga perché è durata un anno e mezzo, anche col Covid permettendo e tutto e alla fine ci siamo riusciti. Poi questo era un locale che prima faceva soltanto pesce, però sinceramente io facendo carne, di carne capisco e quello potevo fare, anche perché era un settore che io non avevo mai fatto, la ristorazione non mi riguarda, non l'avevo mai fatta, però visto che mi sono imbattuto in questa avventura l'ho fatto nel mio settore, provando a vendere il mio prodotto perché è la cosa che penso che sia più importante in queste realtà, vendere la propria... Quello che uno sa fare meglio e tu ci sei riuscito benissimo, quindi alla fine è una specie di sogno che è diventato realtà, nato dalla complicità tra te e la tua fidanzata Emanuela che ha deciso poi di affiancarti in questo progetto perché poi c'è lei al tuo fianco in tutto questo e la salutiamo, stasera non è qui con noi, però la salutiamo però dobbiamo dirlo che comunque è stata lei ad articolo a spinta, no ma lei è la mia spalla, se no io non avrei mai fatto un'avventura del genere, che comunque avendo già la macelleria che va bene, di lavoro ce n'è tanto, non l'avrei mai fatto, perché è difficile sia mentalmente che fisicamente, immagino, però tu sei giovane, e poi hai comunque il supporto di tanti collaboratori immagino, no? Certo, attualmente sono 16, senti allora parliamo delle sale di questa bellissima braceria, allora questa è una delle sale interne, dico bene? Sì, diciamo questo è il gazebo coperto chiuso che abbiamo sopra. Quanti posti a sedere avete? Qua stiamo sui 45 posti quasi, di solito questo lo utilizziamo per fare degli eventi, dei compleanni, delle cresime, battezzi e via dicendo. Perfetto, poi avete un'altra sala? Abbiamo la sala interna che stiamo concludendo adesso, che penso che per l'immacolata sarà pronta, inaugureremo e all'interno ci vanno 50 persone. Poi l'estate riusciamo a sfruttare anche le altre due sale che sono esterne, con una capienza di altre 100 persone tra tutte e due le sale. Poi c'è un'area attrezzata per i bambini? Aria attrezzata a giochi per bambini, parcheggio riservato, video sorvegliato, diciamo che ci abbiamo messo un po' di tutto. Che vuol dire fare ristorazione ai tempi nostri, Salvatore? Allora, io non me l'aspettavo che era così, è bellissimo da un punto di vista, ma è complicato da un altro punto di vista, perché comunque devi cercare sempre di migliorare su tutto, perché oggi la concorrenza è tanta sia a livello economico che a livello di prodotti. Anche se paga qualcosina in più, però ne vale di quello che sta mangiando, perché oggi, diciamola tutta, trovi roba da prezzi stracciati a prezzi esorbitanti, però sta a tutti scegliere il prodotto che vuole mangiare. Quindi voi siete riusciti a coniugare qualità-prezzo, perché poi la carne che tu proponi anche ai tuoi clienti della macelleria è una carne di ottima qualità. La stessa cosa facciamo qui, è vero che non ho messo dei prezzi stracciati anche se io lo potevo fare avendo una macelleria, non avevo passaggi di mano, potevo dare, diciamo, il prodotto a minor prezzo, però abbiamo cercato di selezionare un po' la clientela e fare un certo target sia di clientela che un certo tipo di lavoro, puntando tanto qualità e servizio e tutto. E adesso ci siamo spostati nello spazio all'esterno, anch'esso molto bello, curato, insomma pieno di verde. Salvatore, questo spazio qui ovviamente viene utilizzato quando le temperature cominciano un po' ad alzarsi. Il temperatore primaverile d'estate, di solito questa è un'area che noi usiamo sia come area da scena d'estate eppure area per eventi e via dicendo. Infatti di questo volevo parlare con te proprio, so che hai avuto già delle prenotazioni per il periodo primaverile. Sì, ma noi ci abbiamo effettuato alcuni eventi come Cresime, comunioni, comprati di 18 anni, ci avevano proposto anche un paio di matrimoni, però ancora non eravamo pronti, noi eravamo pronti con la location e allora abbiamo preferito non fare brutta figura e rimanere mandare. Quindi eventi sicuramente. La location nasce per quello, poi ho cercato di accostare la Braciria perché è il mio settore offrendogli una location di questo genere. Parliamo della sostanza, la cucina che è proprio la parte importante di questa bellissima realtà. Allora, le pietanze che voi preparate, perché probabilmente si può fare un po' di confusione, si pensa che si mangia solo carne, cioè solo il secondo di carne. Allora, la nostra idea mia di Emanuele è stata fare una Braceria, comunque vendendo il nostro prodotto, le migliori carni, diciamo, delle varie nazioni, tra cui abbiamo il Wagyu giapponese, il Bisonde come esclusiva della zona, abbiamo il Bisonde italiano, l'unica azienda che sta qui nelle Marche, abbiamo cercato di affiancare qualche piatto tipico a livello di ristorazione, facciamo degli antipasti con dei fritti che produciamo noi, facciamo delle bombette, dei taglieri con i salumi miei che produciamo in macelleria, facciamo dei primi sempre ritenenti alla tradizione, come la Genovese, facciamo tutti questi tipi di cucine qua, che di solito non si trovano, oppure non c'è il tempo di farle a casa. Questo qui, comunque cerchiamo di accostare i vini migliori con le tipologie di carne, avendo un sommelier qui in sede che fa solo quello, ho il pasticciere in cucina, perciò tutti i dolci che facciamo noi, sono di nostra produzione, anche quando facciamo dei banchetti, rustici, pizzette, panini, facciamo tutto noi, ho uno chef napoletano, perciò cucina napoletana, ed è per me la migliore al mondo che esiste, che altro posso dire? La specialità, qual è il piatto che più viene richiesto, o comunque al quale tu sei più affezionato, o il tuo chef? A me la Genovese mi fa un pazzino, però diciamo che comunque chi viene, diciamo la domenica, il fine settimana facciamo più primi che carne, chi viene durante la settimana, il sabato sera, viene esplicitamente per si mangia la bistecca, si fanno la bistecca e questo, qualche contorno e finisce lì, però noi cerchiamo sempre di fare questi accostamenti, di dargli ogni settimana qualcosa di nuovo, di offrirgli qualche valida alternativa. Salvatore, chiederti progetti futuri potrebbe apparire mera retorica, visto che già quando sono venuta in macelleria ad intervistarti più di un anno fa, te lo chiesi e tu mi dicesti che avevi intenzione di fare cose più grandi, sei arrivato ad aprire un ristorante, però conoscendoti secondo me hai altri progetti futuri. I soldi del cassetto ce l'ho sempre, perché sincero non riesco a fermarmi su questo punto di vista qua, ma nemmeno a livello economico, perché a me i soldi non mi hanno interessato, è proprio a livello mio di realizzarmi nella vita, di concludere qualcosa e creare qualcosa anche per il nostro territorio, offrire lavoro, perché comunque bene o male ho 12 ragazzi in filo di 30 anni a lavorare, comunque sono tutti giovani, tra cui abbiamo 8 ragazze tra macelleria e ristorante a lavorare, qui le donne sempre avanti, però è più forte di me, non riesco a stare tranquillo con la testa, è vero che è difficile oggi come oggi affrontare queste situazioni, oppure investire, avere il coraggio già di investire, ma soprattutto nelle nostre zone, perché conosco tanti amici, ragazzi, che forse è più facile partire certe volte che cercare di creare qualcosa qui, in questo determinato territorio. Io ci ho sempre creduto, fino a quando ce la farò io cercherò di fare qualche altra cosa, perché ti ripeto, non riesco a stare fermo. Complimenti, Salvatore, tu sei veramente un vero capitano coraggioso, quello che noi tanto decantiamo, il giovane imprenditore che decide di rimanere nella sua terra, di investire nella sua terra, di mettersi continuamente in discussione, investendo, anche rischiando di di incorrere in rischi, ovviamente, perché è facile accontentarsi, stare nella propria nicchia e battati, invece tu sei uno che si mette in gioco e soprattutto che dai comunque occupazione. Ma oggi se non rischi, secondo me non arriva a nessuna parte. Hai ragione, hai ragione. Devi rischiare per ottenere qualcosa, perché se stai là aspetti che la fortuna ti viene a bussare la porta, è difficile. Assolutamente, la fortuna ce la facciamo noi, veramente. Il destino è che come uno se lo costruisce. Esatto, quindi veramente io ti auguro con tutto il cuore, tanta fortuna, veramente in bocca al lupo per tutto, per la tua attività, per le tue attività, a te ed Emanuela e tutto lo staff che ti sta a fianco. Io vi ricordo ancora di prenotare per una bella mangiata di carne o di un primo particolare qui, DC Braceria ed Eventi, a Scauri, in via Montedoro, sono stata precisa, da Salvatore Cagliazzo. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie.